Dalla Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dalla Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, aiuto dei cristiani per coloro che vivono situazioni di fragilità, ammalati nel corpo o nella mente, carcerati, disagiati, che si affidano all'intercessione della Beata Vergine di Loreto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria e della concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che all'annuncelo dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Meditiamo i misteri del dolore. Nel primo mistero, l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitorregus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia, il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Secondo mistero, la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Terzo mistero, l'incoronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Quarto mistero, Gesù, carico della croce, si avvia al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, se avvia al Calvario. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, se avvia al Calvario. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, se avvia al Calvario. della nostra morte, amén. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois voi entre le donne e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli, amén. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù Giuseppe e Maria. Il quinto mistero, la crucifissione e la morte di Gesù sulla croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, amén. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, l'odato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria, salve Regina, mater misericordie, vita dolce, Grazie a tutti. 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 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Amén. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maria, Madre della Chiesa. Grazie a tutti. 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 Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Grazie a tutti.